Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Visto che nello scorso video dedicato a Marshadow avete davvero risposto in tantissimi al mio invito finale di scrivere delle descrizioni riguardanti appunto questo Pokémon, quest'oggi in questo video molto particolare volevo andare a vedere insieme a voi a commentare le 5 descrizioni che più mi hanno stupito tra le vostre che ho trovato nei commenti. Vi anticipo innanzitutto che non è stato facile sceglierne 5 perché si saranno 5 dato che ce ne erano veramente di interessantissime. Ho premiato per certi fattori come l'originalità, come erano scritte in generale per gli eventi che erano descritti e per tanti altri fattori che non vi sto comunque a spiegare se no ci mettiamo troppo tempo ma in ogni caso ringrazio davvero tutti quelli che hanno lasciato una descrizione sappiate che le ho lette tutte dalla prima all'ultima e sono davvero rimasto stupito dall'intelligenza e dalla creatività di molti di voi. Detto ciò direi che possiamo senza ulteriori indugi iniziare col video ma prima vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento qui sotto ovviamente dopo aver visto il video commentando anche voi le descrizioni degli altri utenti o magari ringraziandomi se c'è la vostra insomma tutto dipenderà da come andrà avanti il video. Comunque ora sto davvero perdendo troppo tempo iniziamo che è meglio. La prima descrizione ce la fornisce Playhard, Marshadow il pokemon nome finale, non si hanno molte informazioni su di lui ma si pensa che abbia lottato contro Necrozma e ribaltato completamente il suo corpo dandogli la sua forma attuale, per farlo dovete però sacrificare se stesso vivendo in eterno nell'ombra di altri esseri viventi, sempre allerta per proteggere il mondo pokemon da minacce future. Di questa descrizione ho apprezzato davvero tantissimo il collegamento che quest'utente ha fatto tra Marshadow e Necrozma. Noi sappiamo, per delle evidenti prove insomma, che questi due pokemon sembrano essere molto legati. In questa descrizione questo legame è in realtà uno scontro che avvenne molto tempo fa e che portò Necrozma probabilmente a subire diciamo dei danni particolari. E Marshadow ha la morte. In questo modo Marshadow diviene anche una sorta di paladino della giustizia della regione di Alola. Un pokemon che ha sacrificato la sua stessa vita per salvare la regione da Necrozma che evidentemente in questa descrizione ha una connotazione molto negativa. Fra parentesi, se io dico Necrozoma anziché Necrozma qualche volta, è normale. Ormai io sono abituato così e sto cercando di togliermi sto vizio. In ogni caso, questa descrizione tra l'altro poi va anche a creare una sorta di apertura verso una nuova trama perché ci dice che Marshadow rimane comunque sempre allerta per possibili minacce. Il che può voler sottointendere magari, non so se era l'intento, l'intento cosa ho detto, ma comunque secondo me potrebbe appunto portare alla conclusione di un'ipotetica trama totalmente diversa in un pokemon stars con magari Necrozma che ritorna e Marshadow che tenta di sconfiggerlo. E nulla, ringrazio quest'utente per la sua descrizione, ma direi di passare subito alla prossima. Abbiamo la descrizione di Vincenza Riccio che ci fa veramente un amplian con tanto di altezza e peso. Iniziamo subito a leggerla. Marshadow, pokemon combattente ombra, altezza 60 centimetri, peso 500 grammi. Descrizione. Si dice che durante le notti nelle quali si venerano i quattro Tapu, marci su vecchi campi di battaglia e che si alleni costantemente per sconfiggere un giorno la sua Nemesi che si ipotizza essere Necrozma. Questa ragazzi va addirittura oltre alla descrizione che abbiamo visto prima, creando diciamo quella minaccia, descrivendola, quella minaccia che era solo accennata nella scorsa descrizione, con Necrozma, quindi in realtà quello che Marshadow sta aspettando nell'ombra degli altri esseri viventi, quello per cui Marshadow è allerta, secondo questa descrizione è proprio un possibile ritorno di Necrozma e quindi una nuova, fra virgolette, guerra con le ultracreature ad Alola. Sarebbe un Marshadow, ormai diciamo defunto, lo spirito di Marshadow che morì tempo fa, facendo una connessione tra le due descrizioni ovviamente, che ritorna per sconfiggere Necrozma, che a sua volta ritorna per conquistare Alola, o comunque in generale per dare vita a un'altra guerra delle ultracreature. Anche questa è molto interessante, tra l'altro presenta delle analogie con quella precedente, ma appunto, come dicevo prima, va oltre a questa, e poi ovviamente gli elementi dei Tapu che avevo già messo nel video, e quindi nulla, mi è piaciuta davvero tanto. Abbiamo poi la descrizione di WitherDeltaZZ, che non so se la pronuncio giusta, ma non è importante, che ci dice, le leggende e i miti di Alola raccontano di questo Pokémon come il protettore dei Tapu e dell'arcobaleno, e che abbia sconfitto una creatura proveniente da un altro mondo, sprigionando un grande potere tuttora sconosciuto. Si dice che ancora oggi vaghi nell'oscurità di Alola, prendendo il nome di Marciatore della Notte. Di questa descrizione ho apprezzato un particolare, ossia quello dell'arcobaleno, associando questo elemento, diciamo, che comunque è legato alla luce solare, e a dei fenomeni particolari dell'atmosfera, associandoci appunto a Marshadow, secondo me gli rende, diciamo, onore. Poi sappiamo tutti l'arcobaleno che Valenza ha avuto all'inizio, agli albori degli annunci di Pokémon Sole e Luna, era, diciamo, il marchio con cui era stato registrato, appunto, questa nuova generazione, e quindi ho apprezzato il collegamento che è stato fatto, in modo tale anche da spiegare, in un certo senso, questo nome. Tra l'altro, ragazzi, l'arcobaleno, secondo una teoria che avevo fatto tempo fa, è presente, diciamo, in Necrozma, nel suo Prisma che lo sprigiona, e di conseguenza il nome del gioco potrebbe essere addirittura Pokémon Prisma, ma queste sono altre cose che non vi sto a dire qua, e trovate il video nella playlist delle teorie, se vi interessa potete tranquillamente andarlo a vedere. Nulla. Questa descrizione è stata scritta anche abbastanza bene, affibbiando anche a Marshadow, tra l'altro, il nominio, diciamo, di Marciatore della Notte, secondo me è una scelta azzeccata e sarebbe davvero carina da vedere, anche nel gioco ufficiale. Passiamo però subito alla quarta descrizione. Abbiamo poi la descrizione di I'm Just Jova, che in realtà è un pochino diversa. Marshadow si dice che sia stato visto nelle notti più cupe, mentre si allenava. Non c'è nulla di certo, ma non si fa mai vedere alla luce del sole, per questo motivo si sposta usando l'ombra di chi gli sta intorno. Qua non c'è nessun riferimento a un ritorno di Necrozma o a robe del genere, semplicemente si fa riferimento al fatto che si sposta utilizzando le ombre degli altri esseri viventi perché non vuole farsi vedere alla luce del sole. In pratica sarebbe un Pokémon molto timido, fattore che tra l'altro si ritrova in alcune descrizioni che avete lasciato nei commenti di quel video. E nulla, questa descrizione è molto più semplice, quasi più pacifica, un pochino più, fra virgolette, normale. Forse I'm Just Jova è un pochino della teoria che Marshadow non avrà sta grande importanza nel futuro, Pokémon Stars o comunque qualsiasi nome abbia non ha importanza. E nulla, mi sembrava anche giusto portare una descrizione di questo tipo perché altrimenti si fa tutto uguale e non avrebbe avuto molto senso. E tra l'altro anche il fatto che si alleni nelle notte più cupe è molto interessante secondo me per il fatto comunque del video in cui dicevo che si appariva nelle notti dei Tapu il fatto che si alleni potrebbe essere davvero interessante. Tra l'altro anche qui il fattore di mistero non c'è nulla di certo, mi piace davvero tanto, io adoro personalmente le descrizioni che lasciano l'alone di mistero e tra l'altro adesso che andiamo a vedere la quinta, questo alone di mistero è stato massimizzato nell'ultima descrizione che andremo a vedere. Ovviamente ragazzi non ve l'ho detto ma queste descrizioni qua non sono in ordine di bellezza o importanza sono in ordine abbastanza casuale come le ho trovate. Fatta questa precisazione andiamo subito con la quinta. La descrizione finale è quella di Super Link che ci dice è un Pokémon che si palesa solo in alcune notti particolari. All'apparenza sembra innocuo ma c'è un segreto che nessuno può neanche immaginare. Ho adorato quest'ultima parte per il semplice fatto che lascia un mistero dietro che secondo me sarebbe veramente una figata da vedere nel Pokédex. Tra l'altro si può invece immaginare che questo segreto sia legato a Necrozma e a quella guerra di tanto tempo fa magari Marshadow solo conosce il vero segreto di quel Pokémon. Però veramente ho adorato questa parte finale in cui aleggia questo mistero che secondo me calza pennello nelle descrizioni di Pokémon di questo genere e che vorrei vedere più spesso. Ho poco da commentare su questa descrizione e volevo solo premiarla per questo fattore molto particolare. Detto già ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto. L'ho registrato molto di fretta non so neanche che ora uscirà perché purtroppo ho avuto dei problemi con un altro video che avrebbe dovuto uscire oggi e che probabilmente spero di riuscire a far uscire domani. Se vi è piaciuto comunque vi invito a lasciare un bel mi piace un commento qui sotto e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Commentate anche voi nei commenti mi raccomando commentando a vostra volta i commenti dello scorso video in cui vi avevo chiesto di commentare. Passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale mio o anche del canale se non dovessi caricare dei video sapete che lo annuncio spesso lì. e passate anche no che passate cosa premete la campanella in alto a destra nella home o qui in basso di fianco al nome del canale per ricevere i feed che youtube manda. Detto ciò noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!